Al via alla prima edizione della giornata nazionale del paesaggio organizzata dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con l'intento di promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini alla salvaguardia del territorio. Numerosissime le iniziative in programma. Nella palestra grande degli scavi archeologici di Pompei Michelangelo Pistoletto ha dato vita all'installazione Terzo Paradiso, suo manifesto del 2003. Si tratta della riconfigurazione del segno matematico dell'infinito rappresentato da un otto rovesciato. Tre cerchi consecutivi che rappresentano la natura, l'artificio e la loro fusione. È una festa oggi, è una festa per il paesaggio, per ricordare, celebrare e riflettere sul paesaggio e l'abbiamo voluto fare in questo luogo che è un luogo emblematico di Pompei a lungo chiuso. L'abbiamo aperto qualche tempo fa come anche il contenitore per esposizioni permanente e temporanee, ma qui all'interno non si entrava. Invece l'abbiamo pensato proprio come spazio ideale per il Terzo Paradiso di Pistoletto perché qui il connubio fra natura e artificio, come spesso il maestro racconta ed è un po' parte della sua filosofia, qui si tocca con le proprie mani. Non ho ancora visitato, per poco che ho visto mi sembra che qui si rinasca veramente. Il lavoro che si fa è un lavoro che porta questa capacità italiana, se si vuole, di impegno per la ripartenza.